Frenzel, blocco labiale. Come abbiamo visto in Frenzel, l'aria non arriva dai polmoni ma è aria contenuta direttamente nel loro faringe. Per fare questa cosa, per simulare questa condizione, siamo obbligati a gonfiare prima il dispositivo perché poi una volta che la glottide sarà chiusa, sarà il dispositivo in una prima fase a gonfiare loro faringe. Quindi ricordo che la glottide in Frenzel è chiusa, il palato molle risulta in condizione neutra. Per garantire la glottide chiusa, quello che noi possiamo fare è svolgere l'esercizio in apnea espiratoria. Quindi si espira, si chiude la glottide, si mette il palloncino al naso e il palloncino gonfierà la bocca. Come vedete la compressione del palloncino, la compressione dell'aria avviene tramite la chiusura mandibolare. Quando la mandibola si chiude, l'aria viene mandata al palloncino. Quando la mandibola si apre, il palloncino restituisce aria al loro faringe. Proprio durante la fase di compressione della mandibola, questa fase è il momento in cui si manda aria alla tuba di ostacchio.